Quanto finirà? In 15 minuti Quanto finirà? In 15 minuti Quanta minuti? Sì Quattro giorni No, minuti, quasi un'ora Wow Ciao Un pezzo di torre? Sì, è un pezzo di quella torre grande E perché non lo metti? Perché lo metti? Perché lo metti? Non è finito Questa, allora Questa qua è venuta male Non ha finito di stampare E allora l'hanno tenuto da parte E quella è la torre invece fatta bene Per farlo vedere Beh Vabbè, le mette così No, al contrario Al contrario Così Così C'è, 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 c'è Ma sono puntite? Sopra No, non c'è la punta E allora, che è questo? Questo si Questo viene montato uno sull'altro Sì Sì È stampato così E poi viene messa tutta E poi viene messa tutta Sì Sì Ah, qui dentro ci devi mettere i fiori Per regalarli a lei Sì A questa signorina qui dietro A questa signorina qui dietro Sì 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 Adesso ci andiamo a trovare i tuoi fratelli che ci stanno aspettando Ciao